Siamo qui riuniti in questa celebrazione eucaristica per celebrare con gioia questo anniversario di ordinazione della prima Santa Messa di Don Alfredo Morselli, 35 anni. Ecco, ringrazio innanzitutto, mi ha chiesto un po' per l'amicizia che ci lega, ecco, di dire due parole in questa occasione. Anzitutto un grazie, penso che vada a tutti noi confratelli che siamo qui riuniti in segno di comunione, anche se di diversa estrazione, carismi, e però siamo qui insieme a celebrare fondamentalmente il dono del sacerdozio. Ecco, quello che per noi è stata una chiamata, la chiamata a seguire il Signore. Abbiamo letto come nel Vangelo Gesù chiede a San Pietro, Simone figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Ecco, e lo chiede per tre volte, no? E' un po' la domanda che il Signore ha fatto a ciascuno di noi, l'ha fatto in particolare oggi, ricordiamo Don Alfredo, quando gli ha chiesto a suo tempo, Don Alfredo, mi ami tu più di tutti coloro i quali conosci, hai affetto? E Don Alfredo ha risposto sì, ed è partito, no? È partito per l'avventura del sacerdozio. Ma poi nel corso della vita, quante volte di fronte alle difficoltà, le prove, di fronte alla solitudine, le amarezze, le cruci della vita, il Signore avrà chiesto a Don Alfredo, nel segreto del suo cuore, Don Alfredo, mi ami tu più di costoro? Mi ami più di tutti coloro i quali hai lasciato gli affetti, la vita comoda, di fronte anche a queste cruci, sofferenze, prove, solitudini? Mi ami tu più di tutti gli altri, nonostante tutto e tutti? Ecco, Don Alfredo per 35 anni a queste tre domande ha sempre risposto di sì. Allora oggi noi vogliamo ringraziare Don Alfredo perché con questa risposta che ha dato il Signore è qui presente in mezzo a noi. Vedete, oggi siamo anche in un momento per noi sacerdoti particolarmente difficile, non è mai stato facile in nessun'epoca. Però certamente oggi siamo in un momento di grande confusione, in cui la nostra identità sacerdotale è venuta, non dico meno, ma un po' in discussione. Non sappiamo forse in questo momento storico esattamente come collocarci. Forse a volte abbiamo perso un po' l'identità di chi siamo, abbiamo forse perso un po' l'obiettivo che dobbiamo raggiungere ogni giorno, le cose da fare. Vediamo una società che non è più cristiana, che sta andando, ed è già andata molto, verso un paganismo imperante. Ecco allora per noi oggi sacerdoti che cosa dobbiamo fare, qual è la nostra missione, qual è il nostro proprio. Ecco penso che Don Alfredo in tutto questo, per noi, almeno parlo non solo per me ma perché ha tanti altri sacerdoti, è stato un esempio. Un esempio perché comunque ha sempre portato una parola di verità. Noi quando abbiamo avuto bisogno di chiedere, di avere luci, abbiamo sempre condiviso tutti noi che una parola detta da Don Alfredo, una chiarificazione fatta da Don Alfredo, una luce dataci da Don Alfredo, era una luce sicura, una chiarificazione sicura. Perché stimiamo, ecco, in lui una persona che ha servito, ha seguito e ha servito la verità. E anche in questa confusione in cui veramente si fa fatica a capire un po' la nostra vera identità, per noi Don Alfredo è un faro di luce per la sua conoscenza, ma non solo per la sua conoscenza nella dottrina, ma anche proprio per il suo esempio di vita vissuta nel Signore. Ecco, a che cosa ci ha chiamato il Signore anzitutto? Anzitutto perché stessimo con Lui, no? Gli ho scelti perché stiate con me e andiate a predicare, stare con il Signore. In questo momento storico così difficile, allora noi sacerdoti dobbiamo stare con il Signore. Stare con il Signore vuol dire proprio stare alla sua presenza, cercare di vivere in Lui, per Lui e in Lui. E in questo momento così difficile, stare davanti al Signore, mantenere la nostra fede, la nostra identità di chiamati, ecco per noi forse in questo momento è già molto, perché vediamo, no? Quante defezioni anche, purtroppo, quante situazioni difficili, quanti momenti di crisi passano i sacerdoti e quanti fanno fatica a volte a risollevarsi. E allora anche a noi tutti, oggi il Signore ci chiede, a noi sacerdoti, ma mi ami tu? Ecco questa parola che, se mi ami, allora pasci le mie pecorelle. Allora anche in questo contesto storico così difficile, però che ci apre una speranza di un mondo nuovo, noi siamo chiamati ancora più di prima ad amare il Signore, a stare con il Signore, costi quello che costi. Dovesse costare anche umiliazioni, solitudini e anche persecuzioni. Ora il Signore è bandito dalla società, è messo fuori da tutti gli ambiti, Ecco, però noi se vogliamo essere fedeli, la nostra chiamata di sempre, dobbiamo stare con il Signore, a qualsiasi costo. E stare con il Signore significa, a mio avviso, in due modi. Anzitutto starci per amore. Signore, sono qui con te, nonostante tutto e tutti, sto qui con te. E starci nella verità. Oggi siamo in un momento in cui la verità di Cristo è un po' scossa, viene messa in discussione, non si capisce più chi è dalla parte della verità, invece chi è contro la verità. Ma noi stare fedeli alla nostra chiamata è stare nella verità di sempre, quella che il Signore ci ha trasmesso attraverso gli Apostoli, in particolare oggi festeggiando Pietro e Paolo. E in questo noi sacerdoti troviamo in Don Alfredo un punto fermo, sicuro, stabile, retto. Di uno, di un sacerdote che conosce la verità e sta nella verità, nonostante tutto e tutti. Anche a questo di essere isolato, come testimonia la sua vita di questi anni. anche se spesso messo da parte, ecco, ignorato. Chi l'ha potuto conoscere da vicino, come tanti di noi sacerdoti, ha potuto invece conoscere le grandi dote e ha potuto appunto trovare un punto di riferimento. Certo, non enumeriamo innumerevoli difetti di Don Alfredo, altrimenti la predica non finirebbe più. E invece, quindi, li lasciamo a un'altra occasione. Innumerevoli difetti. Ma quello che vogliamo mettere in luce oggi è veramente, ecco, la sua fedeltà a quello che è sempre stato il Magistero della Chiesa, fedeltà al Papa, fedeltà alla dottrina, ecco, è grande conoscenza appunto e grande capacità, dobbiamo dirlo, di trasmetterla. Ecco, perché vedete, non tutti i professori sono bravi interlocutori. Ci sono delle menti eccelse che però non si sanno poi esprimere, si fanno fatica a farsi comprendere. Ecco, invece Don Alfredo è veramente una mente eccelsa, conoscitore delle cose, ma anche una capacità, anche ironica, molto bella, di farsi comprendere. Ecco, chi l'ha conosciuto, vedo qui un gruppetto dei fans, chi ha potuto stare anche un po' vicino a Don Alfredo, vi ricordate anche quando eravamo a Scanello, con i bambini, ecco, lui di elevatura, di così grande dottrina, quando veniva a parlare ai bambini era impressionante, perché come i bambini riuscivano veramente a comprendere, a capire, a stare con quello che lui diceva. Quindi questa grande capacità di rivelarsi proprio anche ai piccoli, agli umili, a quelli che magari si direbbe, ma come si fa a parlare a loro? Ecco, Don Alfredo ha questa capacità, parlare ai dotti come parlare ai piccoli. Allora chiediamo, per l'intercessione di Santi Pietro e Paolo, che ci aiutino noi tutti i sacerdoti a essere in questo momento così difficile, fedeli. Ecco, credo che l'augurio più grande che possiamo farci in questo momento, e lo facciamo tutti i sacerdoti, di stare fedeli alla verità. Costi quello che costi. Non seguiamo le mode del mondo, non seguiamo quello che può essere una deriva, quello che può essere un rinnegamento della verità, ma stiamo fedeli in essa. Questo siamo stati chiamati e questo dobbiamo corrispondere. Anche nei momenti più gravi, difficili della testimonianza, dobbiamo chiedere al Signore, in particolare alla Madonna, che ci aiuti. E concludo con due parole proprio sulla Vergine Maria, sulla Madonna. Ecco, per noi cristiani cattolici sappiamo quanto sia importante la devozione alla Madonna, siamo qui in un santuario mariano tenuto dai fratelli dell'Immacolata e sappiamo quanta devozione e quanto bene hanno fatto i frati, stanno facendo proprio nel trasmettere l'amore e la devozione alla Madonna. Ma anche Don Alfredo, grande devoto di Maria Santissima, ha sempre trasmesso una grande devozione alla Madonna, in particolare la sua devozione alla Madonna di Fatima e alle figure dei tre pastorelli, che veramente sono una figura molto importante, no? per noi, perché ci richiamano all'offerta, al sacrificio, all'immolazione, al nascondimento, hanno vissuto, ecco, in maniera molto semplice, però hanno richiamato appunto con la loro vita la grande devozione al cuore immacolato di Maria, l'offerta delle sofferenze, delle prove, della solitudine, pensiamo a Giacinta, morta da sola, all'ospedale. Ecco, Don Alfredo ci ha richiamato più volte a questa devozione profonda al cuore immacolato di Maria e all'esempio dei tre pastorelli di Fatima. Allora raccomandiamo e ci raccomandiamo tutti alla Vergine Maria, al suo cuore immacolato, perché ci protegga, ci difenda e ci custodisca tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.